Vladimir Putin è il presidente russo che ha fatto una cosa inaccettabile per me, invadere l'Ucraina. Mi pare che questo, detto sempre e questo c'è scritto sul programma comune del Centro-Test, mi pare che Berlusconi abbia anche spiegato che le parole che aveva espresso erano non l'interpretazione del suo pensiero ma l'interpretazione del pensiero di altri. Non capisco perché continuate a farmi una domanda sulla quale mi pare essere stata molto chiara e le dico di più, spero che prima o poi chiederete a Enrico Letta conto del fatto che è alleato con un partito che dice che bisogna fermare l'invio di armi all'Ucraina perché cerchiamo di capire dove stanno davvero i problemi. Centro-Test ha votato sempre compatto sul tema dell'Ucraina, anche sull'ingresso della Finlandia nella Nato. Chi non ha votato sull'ingresso della Finlandia nella Nato è stato frato gli anni, alleato del PD, i problemi ce ne hanno altri.